Si rinnova a Pistoia la tradizione della festa per San Bartolomeo con gli stand di giocattoli e dolciumi intorno alla piazza dedicata al Santo. Diciamo che l'anno pistoiese si conclude con la festa di un apostolo, San Jacopo, e ricomincia con la festa di un apostolo che è San Bartolomeo. Questa area di festa è particolarmente bella e ci dà una speranza nel cuore perché vediamo che nelle persone c'è la voglia di riprendersi, di riprovare. Le difficoltà sono tante, tantissime, sul piano personale, sul piano delle famiglie, sul piano nostro nazionale, sul piano internazionale. Ci verrebbe da far cascare le braccia, però la festa degli apostoli ci ricorda che ci vuole coraggio e ci vuole speranza perché anche le difficoltà più gravi possono essere affrontate. Se c'è uno spirito positivo nel cuore, se c'è la speranza e se c'è anche la voglia di stare insieme. È particolarmente significativa poi la festa di San Bartolomeo per la speranza perché è una festa dei bambini, è una festa dei piccoli. E quando guardiamo ai piccoli e ai ragazzi siamo un po' preoccupati per quello che avranno di fronte nella vita, ma ci danno un senso di gioia e vogliamo pensare che questi nuovi virgulti potranno fare molto meglio di noi. Come negli ultimi due anni, anche questo 24 agosto, l'olio benedetto è stato dato a tutti i fedeli con una bustina sigillata per ragioni legate alla pandemia. L'olio benedetto giova alla salute dell'anima e del corpo, è la mano di Dio che ci sostiene nelle avversità.